Ma sai che la 500 ha il tuccio, tipo di serie su un certo modello, ma è il tuccio. E' coreano dentro? I coreani mangiano l'aglio. Hai voglia? E come? Mi conosci? Io a Milano riconoscevo se c'era un coreano sentendolo d'oro e poi guardavo in giro e ci c'era un aereo. Anche in aereo. Anche in aereo. Proprio a Corea e a Rhein entra da aereo. Cioè fa bene la pressione ma entro certi termini. Quindi quando ti danno... Non mi fa male.